Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova avventura se così si può considerare infatti la possiamo considerare piuttosto un'avventura teorica quella di oggi qualche giorno fa ho pubblicato sulla pagina instagram del canale per chi non la seguisse vi lascio il link in descrizione un sondaggio un sondaggio riguardo l'eventuale possibilità di introdurre di integrare all'interno di questo canale anche contenuti diversi questo perché perché ci stiamo avvicinando all'inverno e durante l'inverno anche la natura rallenta i suoi ritmi e per cui sarà molto più difficile realizzare contenuti di quell'altro genere per cui per mantenere ancora attivo il canale ho deciso di integrare così sporadicamente qualche contenuto diverso in cui parleremo di alcuni argomenti approfondiremo alcuni argomenti inerenti alla zoologia nel sondaggio della pagina instagram ha stravinto il sì e quindi eccoci qui oggi a parlare del primo argomento di questo nuovo format il mimetismo ho scelto questo argomento perché è un argomento secondo me molto interessante bello e tra l'altro un argomento sul quale si basa gran parte della lotta tra preda e predatore noi sappiamo che una preda è in grado di difendersi da un predatore in vari modi perché l'abbiamo visto l'abbiamo visto anche in molti video già già fatti su questo canale abbiamo parlato di una latrice dal collare che è in grado di sfruttare la tanatosi quindi la morte apparente per scoraggiare il predatore infatti emana anche un liquido maleodorante dalla cloaca proprio per fingersi morta oppure un animale può difendersi con la fuga abbiamo visto anche in molti serpenti abbiamo visto orbettini luscengo le lucertole ramarri tutti in grado di auto amputarsi la coda come tecnica difensiva tuttavia gran parte degli animali chi in un modo chi nell'altro utilizza il mimetismo il mimetismo a grandi linee è quella capacità di un animale di sfruttare l'ambiente circostante un altro animale simile più pericoloso meno pericoloso per confondere il predatore proprio seguendo questa definizione della parola mimetismo siamo in grado di distinguere il mimetismo in due grandi gruppi il mimetismo criptico e il mimetismo fanerico il mimetismo criptico in realtà chiamato anche il criptismo da molti non è considerato un vero e proprio mimetismo il mimetismo in senso stretto viene da molti considerato il mimetismo fanerico tuttavia per avere un'idea più chiara è meglio fare una distinzione di questo tipo il mimetismo criptico o criptismo è la capacità di un animale di un essere vivente di confondersi nell'ambiente circostante quindi prendendo le sembianze di elementi che lo circondano un esempio può essere quello dell'insetto stecco l'insetto stecco è in grado di confondersi tra i ramoscelli proprio perché sia a livello comportamentale che a livello fisico assomiglia tutti gli effetti a un ramoscello per poi citare un esempio che penso tutti noi conosciamo il re del criptismo il camaleonte il camaleonte è in grado di assumere la colorazione dell'ambiente della superficie sulla quale si trova addirittura cambiarla appunto la superficie a superficie questo è in grandi linee il criptismo per quanto riguarda il mimetismo fanerico invece possiamo considerarlo come la capacità di un animale tossico non tossico di imitarne un altro al fine di trarne un vantaggio e nel mimetismo fanerico possiamo fare più distinzioni troviamo il mimetismo batesiano il mimetismo mulleriano il mimetismo mertenziano sono tre tra i più citati partiamo con il primo il mimetismo batesiano si verifica quando una specie innocua imita una specie tossica una specie velenosa una specie che magari sfrutta anche l'aposematismo dopo parleremo anche di quello anche se già l'abbiamo visto nello scorso video con la vedova nera qual è un caso significativo del mimetismo batesiano quello del serpente del latte conosciuto anche con il nome di falso corallo nome scientifico lampropeltis triangulum questo serpente innocuo imita una specie altamente tossica altamente pericolosa molto velenosa che è appunto il serpente corallo prima ho citato l'aposematismo i colori aposematici che cosa sono per chi non avesse visto il video della vedova nera che vi lascio qui sopra i colori aposematici sono quei colori in natura come l'azzurro il giallo l'arancione il rosso che sono come dei segnali di allerta di pericolo per gli altri animali infatti da molti neanche è considerato un mimetismo proprio per il fatto che assomiglia molto più a un linguaggio segreto tra gli animali per comunicare quando ci si trova di fronte a un pericolo quindi il serpente del latte il falso corallo imita il serpente corallo che adotta proprio questo questi colori questa colorazione aposematica poi abbiamo il mimetismo mulleriano si definisce tale il mimetismo per il quale due o più specie adottano lo stesso schema di colori e forme pensiamo agli menotteli molte vespe api qual è il vantaggio di questo mimetismo allora se io ho tre specie tutte simili tra loro per esempio con delle bande gialle e nere ci sono molte mosche che imitano delle api proprio per la colorazione o delle vespe proprio per questa colorazione alternanza di nero e giallo qual è il vantaggio se ho tre specie diverse tutte e tre munite di pungiglione potenziale veleno tutte e tre simili tra loro il predatore dovrà memorizzare un singolo schema di colori e forme che si ripete in varie specie per capire che quella specie come tutte le altre simili a quella sono potenzialmente pericolose quindi questo andrà ad evitare che più esemplari vengono sacrificati proprio per far apprendere al predatore la pericolosità verrà sacrificato un esemplare solo che servirà ad esempio per tutti i predatori che si troveranno di fronte a specie simili a quella passiamo adesso ad un altro tipo di mimetismo che è il mimetismo mertenziano che tuttavia non viene accettato da tutti i biologi per quale motivo perché è un mimetismo che cerca di rispondere a quello che è l'enigma del serpente corallo prima voglio dirvi un'altra nozione che prima mi sono dimenticato di dirvi quando si parla di mimetismo esiste sempre un mimo e un modello il modello è quello che ispira il mimo il mimo è quello che imita il modello esempio pratico quello di prima il serpente del latte è il mimo il serpente corallo è il modello quello da cui quell'animale prende tra virgolette le somiglianze ora vi faccio un quesito prendiamo tre serpenti a b e c la è un serpente mortale velenosissimo la b è un serpente moderatamente velenoso la c è un colubro completamente innocuo ora secondo voi quale dei tre messi tutte e tre relazione quindi magari in tutti e tre hanno la stessa colorazione è proprio questo che analizzò mertens questo erpetologo da cui voi prende il nome mimetismo mertensiano secondo voi quale dei tre può fungere da modello per le altre due specie scrivete prima e poi vediamo insieme se avete indovinato o meno ok analizziamogli adesso tutti e tre il discorso che faremo è simile a quello che abbiamo fatto con gli menotteri nel mimetismo mulleriano prendiamo il serpente a il serpente velenosissimo se un predatore predasse quel serpente velenosissimo che potrebbe essere per l'appunto il serpente corallo il predatore non potrebbe imparare che quel serpente è pericoloso per le volte successive perché appena tenterebbe di predarlo il serpente si difenderebbe e lo ucciderebbe con il suo potentissimo veleno l'ultimo serpente la c è un serpente innocuo e quindi tra virgolette non può insegnare nulla a un predatore perché tanto il predatore nota che è innocuo lo mangia una volta lo mangerà anche le volte successive l'unico che può tra virgolette insegnare qualcosa al predatore è quello di mezzo il serpente b quello moderatamente velenoso per quale motivo l'uccello il qualsiasi predatore eventuale prova a predare il serpente il serpente si difende lo morde e l'animale il predatore si sentirà male in qualche modo per l'azione del veleno di quel serpente proprio per questo mertens ipotizzò che il serpente modello tra le tre potesse essere proprio il serpente moderatamente velenoso ora che abbiamo introdotto i tre mimetismi principali possiamo dire che esistono anche altre tipologie di mimetismi non per forza ritenuti tali da tutti gli scienziati però effettivamente possono essere considerati a tutti gli effetti dei mimetismi uno di questi mimetismi è il mimetismo olfattivo adottato per esempio da molte specie di fiori cosa fanno questi fiori emanano un odore molto simile a quello dei ferormoni delle femmine delle api in questo modo i maschi delle api si avvicinano al fiore pensando che questo sia una femmina e come conseguenza lo impollinano e questo mimetismo è utilizzato per esempio dalle orchidee poi abbiamo il mimetismo acustico pensiamo al beccospino bruno questo piccolo uccellino australiano che imita come tecnica difensiva il verso del falco quando un predatore si avvicina all'uccellino per predarlo lui imita il suono del falco così il predatore si spaventa e scappa via bene ragazzi in questo video abbiamo cercato di dare delle nozioni chiave riguardo al mimetismo riguardo alle varie tipologie di mimetismo abbiamo dato anche una sorta di schema per i prossimi video che usciranno io vi invito a scrivere nei commenti qualche idea se avete qualche proposta di argomenti interessanti da approfondire io vedrò i più gettonati e tratterò anche di quegli argomenti inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati vi ricordo che è importantissimo per la crescita e per il mantenimento di questa piattaforma o meglio di questo canale su questa piattaforma quindi noi ci vediamo in una prossima avventura ciao 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 ciao